Ed eccola qui la S-Cross nell'allestimento Starview. Il design, lo sappiamo, è tutto made in Italy, frutto del lavoro del centro stile Suzuki che risiede proprio qui, a Torino, dove siamo noi. Ma quali sono le caratteristiche peculiare di questo allestimento? Beh, venite a vederle con me. La prima è questa, il tetto panoramico, da cui appunto deriva anche il nome della versione. E la seconda è la combinazione con motori 1.5 Dual Jet ibrido, da 140V e cambio automatico. Insomma, il massimo che la gamma S-Cross mette a disposizione. Sedendoci, notiamo subito uno schermo touch da 9 pollici, con grafica ad alta risoluzione ed integrazione CarPlay Android Auto, con connessione wireless, e il navigatore integrato. I sedili interiori sono riscaldabili e in questo allestimento sono arricchiti con una combinazione di tessuto tecnico e materiali pregiati. Ma tornando allo schermo da 9 pollici, lasciate che vi mostri una cosa. Su questa versione è sempre disponibile la telecamera a 360 gradi, ma forse non tutti sapete che è attivabile anche in movimento. Ci permette di visualizzare sullo schermo una doppia vista, il frontale basso, altezza terreno e la ruota anteriore destra, proprio i punti ciechi della vettura. Ci viene utile non solo in occasioni quotidiane in fase di parcheggio, ma soprattutto quando vorrete divertirvi nell'uso fuoristrada, proprio come piace a me. Infatti non dimentichiamoci che la S-Cross è disponibile sia in versione 2 rotomotrici, sia in versione 4 rotomotrici, con vero albero di trasmissione. E grazie allo Glipp Select è possibile selezionare diverse modalità di guida a seconda del fondo stradale. Auto, ideale nel quotidiano perché utilizza i consumi attivando il trasferimento di coppia automaticamente. Sport, che aumenta la risposta del motore e migliora le prestazioni assegnando più coppia alle ruote posteriori. Snow, da utilizzare in condizioni di bassa aderenza. Lock, con fondo estremamente sdrucciolevole, ma raggiunto i 60 km orari, il sistema passa poi automaticamente alla modalità Snow. Beh, che dire, la S-Cross è davvero l'auto più comoda e versatile per qualsiasi strada. E voi? Cosa ne pensate dell'allestimento Starview? Fatecelo sapere nei commenti sotto. Ciao e alla prossima!